Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida di percorrere con un'auto il percorso che va da Corso Commercio a Parco Pacifico, quindi è una bella strada, con un'auto. Le auto hanno carburante diverso, questa ad esempio ha 41, questa invece ne ha 32, quindi il mio consiglio è di procurarsi prima di tutto una bella tannica di benzina e riempire il serbatoio in questo modo, altrimenti non fate molta strada. Quindi una volta che avete riempito il serbatoio guidate l'auto e dovete impiegare solo 4 minuti per raggiungere Parco Pacifico. Ora vi premetto che questa sfida non è completabile in rissa squadre perché le auto non sono gestibili, non sono guidabili, un po' come gli elicotteri alla fine. Quindi dovete optare per una qualsiasi modalità che non sia rissa squadre. Il consiglio quindi è quello prima di tutto di procurarvi una tannica di benzina, altrimenti fate veramente poca strada. Dopodiché seguire la strada principale per arrivare a Parco Pacifico, cercando di evitare gli altri giocatori, perché sicuramente incontrerete i simpaticoni di turno pronti a rompervi le scatole. Quindi, diciamo, accelerate a manetta, non fermatevi, assicuratevi di partire con il carburante al massimo e portatevi dietro magari una tannica di benzina nel caso servisse. Come vedete, se seguite la strada principale, non avete problemi perché il veicolo non si rallenta. Infatti, se provate a guidarlo sull'erba o nell'acqua, si rallenta e perdete tempo. Quindi, assicuratevi di percorrere la strada principale. Non potete assolutamente sbagliarvi, quindi se percorrete la strada principale, ecco, infatti io mi sono sbagliato, bella trollata, arriverete per tempo. Quindi, assicuratevi di percorrerla completamente e nel modo giusto per arrivare a Parco Pacifico. Avete a disposizione solo 4 minuti. La sfida dovrebbe essere disponibile da domani, salvo imprevisti. e ovviamente, diciamo, sempre che non sia buggata. Non so se sarà disponibile una sorta di cronometro o se dovete contare voi o impostarlo voi manualmente. Comunque, il percorso da fare è questo. Cioè, è molto molto semplice. Ora, ignorate il mio errore, però è molto semplice. Vedete, la strada vi porta tranquillamente qui. Quindi, una volta che siete arrivati, sbloccate, diciamo, la sfida. Cioè, la completate. Quindi, il percorso praticamente è questo. Ve lo mostro. Cioè, questa strada qua, vedete, che vi porta praticamente a Parco Pacifico. Quindi, non serve tagliare. L'importante è partire con una tannica di benzina bella piena, riempire il serbatoio al 100% e percorrere la strada principale.